Marco Columbro, benvenuto al SANA, so che lei torna sempre volentieri a questa fiera che la rappresenta in cui trova tutta una serie di situazioni e ambienti a lei molto favorevoli, perché? Io in realtà ho aperto il SANA 29 anni fa, quando c'era un padiglione solo e c'era un centinaio di produttori, ho aperto nel senso che l'allora Gastone, Rossi, mi chiese di fare qualcosa e mi inventai il pifferaio magico, cioè con un megafono portavo in giro la gente per i padiglioni spiegando loro, facevano parlare ai produttori cosa facevano, cosa era il loro prodotto quindi io compio quasi 30 anni di visitazione del SANA e meno male che esiste ancora, perché è importante come punto di ritrovo per tutti coloro che si interessano di bio che vogliono migliorare la loro qualità di vita, non solo a livello di salute ma dell'ambiente visitare il SANA, vedere quali sono le novità dell'anno e fare in modo che sia sempre più, faccia sempre parte della propria vita insomma il biologico. Non solo esiste e lotte insieme a noi, ma cresce il biologico, il SANA, cioè sono movimenti culturali che stanno crescendo non poco insomma la consapevolezza sta arrivando. Beh da 30 anni a questa parte si sono piante molte cose, se pensi che molti imprenditori di grandissimo livello sono entrati con i soldi che credono nel biologico, il biologico è il futuro, su questo non c'è dubbio è cresciuto sempre dal 16 al 19% in percentuale ogni anno da quando è iniziata la crisi nel 2006 e quindi questo significa che la gente, il consumatore sta cominciando a prendere consapevolezza che è meglio comprare di meno ma di qualità che riempire lo stomaco virtuale, cioè il carrello con della roba che poi il 30% già sappiamo viene buttato via. Quindi in questo senso c'è una maggiore consapevolezza rispetto a 30 anni fa, questo è ovvio. Lei oggi qui gira fra i padiglioni, gli stand, incontra tanti amici. Io sono qua come inviato speciale di dimensione bio dove io scrivo, tengo una rubrica e quindi farò un po' di interviste, girerò un pochino per il SANA per cercare di captare un po' la situazione attuale. Un'ultima domanda, il biologico non è più appannaggio di una elite come si diceva o comunque di un concetto molto alto è un senso, comunque è un qualcosa che possono apprezzare tutti a tutte le età e a tutti i livelli sociali insomma è diventato molto democratico. Ma sì, mangiare il biologico non è più una moda come poteva essere 20-30 anni fa è diventato un vero e proprio stile di vita, cioè i consumatori sono sempre in aumento ormai sono un milione in Italia perché hanno capito che mangiare sano vuol dire stare in salute e migliorare il nostro ambiente che è una cosa più importante. è un buon appetito. Grazie a tutti.